Per l'ultima partita di campionato andremo a scontrarci contro a Grate, che sappiamo essere una squadra molto tosta sotto tanti punti di vista, difensivi, offensivi. Sicuramente stiamo affrontando le ultime settimane magari con un po' più dispensieratezza, dettato dal risultato raggiunto, ma con la solita voglia di dimostrare che siamo in campo, quindi sarà una bellissima partita perché vogliamo chiudere in bellezza quest'anno, che è stato un solo crescendo, nonostante magari qualche momento di difficoltà, e dimostrare ciò che siamo diventate, quindi guardateci, vi aspettiamo.